siamo ed i primi di settembre ed è il momento idoneo per fare la talea di lavanda il periodo migliore appunto quando la lavanda ha finito di sfiorire quindi appunto come vi dicevo verso settembre la lavanda è una pianta aromatica che è molto facile propagare per talea vediamo subito come si fa paio di forbici si preleva un pezzetto di pianta la parte superficiale lunga circa 15 cm e se ne va a fare una talea io ne prendo un pochettine e vi faccio vedere subito come si fa allora giunti a casa la prima cosa che dovremo andare a fare è prepararci il vasetto dove andranno le nostre traia di lavanda vediamo come si fa almeno vediamo come faccio io prendo una semplice bottiglia di queste qui dell'acqua in questo caso è da due litri ma vanno bene anche quelle di un litro e mezzo e taglio una parte di fondo 12 15 cm quindi mi aiuta all'inizio con un piccolo paio di forbici a punta poi vado con le con le forbici faccio un taglio circolare finché creo proprio un vero e proprio vaso ok in questo modo poi mi sono procurato la parte diciamo del vasetto dove andrò a mettere il terriccio l'altra parte invece l'andrò a tagliare sempre da quest'altro lato in questo caso perché ho una bottiglia che si stonda andrò a tagliarmi anche questa porzione quindi avrò solamente questo modo però solamente la porzione dello stesso diametro della bottiglia perché poi io dovrò andare ad inserire una volta che ho messo la nostra talea la bottiglia una di nuovo dentro l'altra ora vi faccio vedere poi come funziona allora per prima cosa dobbiamo fare nella parte del vasetto i fori sul fondo bastano un paio di forbici di queste qui piccoline con la punta in acciaio vado a crearmi una quindicina di forellini sul fondo in modo che l'acqua di annaffiamento della pianta non rimanga sul fondo ma dreni e se ne vada all'esterno così le future radichette della nostra pianta di lavanda non andranno in asfissia cercate chiaramente di fare i fori nella parte più profonda della vostra bottiglia anche nella parte superiore facciamo qualche forellino per far passare l'aria in questo modo qua bastano un pochettino un po di fuori per far passare aria anidride carbonica e attivare la sintesi clorofiliana della nostra futura talea il terriccio da mettere nel vasetto occorre anche per la lavanda avere come molte erbe aromatiche un terriccio molto drenante non ama i ristagni nitrici se abbiamo un terreno sciolto come questo qua leggero con all'interno già della pomice va bene così altrimenti se abbiamo un terreno che c'è una parte di argilla quindi è un terreno a medi impasto pesante possiamo fare un mix di il nostro terreno medio pesante del terriccio di questo qua universale e della sabbia lavata in parti uguale questo mix fanno sì che il terriccio sia ben drenante quindi andiamo a riporre all'interno del nostro vasetto che abbiamo creato il terriccio fino a costiparlo bene e arrivare a un paio centi di centimetri dal bordo una volta che abbiamo riempito il nostro vasetto lo costipiamo un pochettino e siamo pronti ad andare a fare le nostre talee di lavanda prepariamo la talea come avevo detto nella raccolta la talea dovrà essere circa 15 centimetri quindi andiamo a fare un taglio netto e preciso sulla parte sottostante della talea e andiamo anche a spuntare con un paio di forbici affilate la cima della lavanda in questo modo ok adesso dovremo andare a liberare di tutte quante le foglioline la nostra il nostro rametto di lavanda e dovremo andare a lasciare solamente tre o quattro che tre quattro nodi quindi nodi sono questi qua dove si ripartono le foglie quindi con i suoi mazzettini di foglioline e quindi andiamo a privare completamente facciamo una leggera trazione del ciuffetto di lavanda del ciuffetto di foglie scusate verso l'esterno e andiamo a eliminare tutte quante le foglioline se non riuscite potete anche aiutarvi con un paio di forbicine affilate è ancora meglio perché non andate a togliere la pellicina che riveste il vostro tenero rametto di lavanda abbiate un po di pazienza e poi andiamo a piantare nel vasetto ecco pronta la nostra talea di lavanda come vedete ho tolto tutte quanti i nodi e dove erano attaccate le foglioline vedete quanto sono vicine l'una dall'altro circa mezzo centimetro va benissimo così perché vuol dire che ad ogni punto del nodo dove c'erano le foglioline c'è la possibilità che fuoriesca la radichetta nella punta come vedete cimata perché io preferisco togliere il germoglio perché porta via molta energia lascio solamente quattro nodi con le sue foglioline che ripeto quest'operazione anche in queste altre tre o quattro piccole talee di lavanda la punta chiaramente va solamente tolta la cima in questo modo in questo modo qua procedo con l'eliminazione di tutte quanti i nodi e le foglioline ora siamo al passaggio di inserimento delle nostre talee eccole qua tutte e quattro belle pronte all'interno della circa i 15 cm che avevo detto eccoci qua e l'andiamo ad inserire una per una nei quattro lati del nostro vasetto fatto con questo fondo di bottiglia come si fa io prendo un un bastoncino potete utilizzare anche una penna una matita quello che volete fate un foro fino ad arrivare proprio in fondo al barattolino poi togliete il vostro la vostra penna il vostro bastoncino inserite la talea quando arrivate a toccare il fondo come in questo caso rialzate di un centimetro e mezzo o due la talea e controllate che sia fuori almeno un paio di centimetri dalla parte dove avete tolto le foglioline fino alla parte dove ci sono le foglioline quindi lasciate soltanto un paio di centimetri fuori del vostro stelo pulito dalle foglie in questo modo ripetete l'operazione su tutti i quattro i lati e il gioco è quasi fatto ho inserito tutte quante le mie piccole talee perché vi ho fatto inserito fino in fondo la talea poi rialzarla di un pezzettino perché la parte radicante del fondo comunque non andrà a toccare il fondo proprio del barattolino quindi siccome il fondo è sempre la parte più bagnata più molla sono sicuro che rialzando la talea quelle radichette non stanno troppo a bagno quindi non mi manda in sofferenza in asfissia radicale la piantina ora non ci rimane altro che annaffiarla ben bene e riporre come avete visto prima il tappo sopra alla mia al mio fondo di bottiglia la prima volta annaffierò abbondantemente la mia e il mio vasetto di talea poi successivamente non occorre annaffiarlo così così periodicamente perché con questo sistema di andare ad inserire la bottiglia il sopra della bottiglia sul sotto della bottiglia ci permetterà di avere un controllo dell'umidità quindi sarà sufficiente diciamo annaffiarla ogni cinque sei giorni o almeno controllarla ogni cinque sei giorni che ci sia all'interno presente quell'umidità necessaria per far attecchire bene la nostra talea di lavanda come si fa a vedere l'umidità se è sufficiente quando io andrò a togliere il mio coperchietto basta infilare uno stuzzicadente come se fosse una torta se lo stuzzicadente quando lo tiro fuori è asciutto vado ad annaffiare se rimane bagnato lo lascio così com'è ed eccoci qua abbiamo terminato il nostro vasetto di talea che cosa questa bottiglia tagliata in due rincastrata di particolare a me piace molto tre cose essenzialmente innanzitutto essendo trasparente riesco a vedere la situazione sotto il terreno quindi mi controllo se il terreno è abbastanza umido quindi posso pure non andare ad aprirlo e riesco a vedere sotto il terreno se le mie piantine di talea stanno radicando bene comunque quello che succede poi con questa situazione di tappo sopra e forellini garantisco quel microclima abbastanza umido che amano le talee proprio per attecchire meglio e poi anche una situazione di protezione verso i predatori esterni perché insomma devono andare fino al tappo della bottiglia per andare a rosicchiare o a diciamo ad infestare le mie nuove piantine di lavanda ora non rimane altro che andare a riporre le mie talee quindi tutto quanto il sistema in una parte in completa ombra luce sì ma completa ombra non devono arrivare i raggi solari altrimenti questo fa un effetto serra e lesso completamente la mia piantina e aspettare l'anno nuovo quindi tra un paio di mesi io posso vedere che già ci sono delle radichette però per andare a mettere a dimora facciamolo verso marzo aprile al risveglio vegetativo avremo dato l'opportunità alla nostra piantina di aver ben radicato i rigori invernali oramai sono terminati quindi la nuova piantina che andrà messa a dimora in piena luce in un terreno drenante e dove c'è aria vedrete che avrete un ottimo risultato date vi faccio vedere quanto già è cresciuta sono passati tre giorni mentre stavo montando il video quindi ho fatto di nuovo questa ripresa dopo tre giorni come vedete non ha sentito assolutamente della crisi di taglio e di trapianto anzi sta crescendo è bella e vegeta iniziano anche a nascere qualche piccola fogliolina all'interno quindi l'umidità è quella giusta vi consiglio proprio di adottare questo sistema perché funziona veramente alla grande spero che anche questo tutorial vi sia stato di aiuto e di vostro gradimento ci vediamo al prossimo video lascio i commenti aperti ciao ciao amici